Siamo allo sport per questo venerdì 19 aprile, giornata che sarà caratterizzata soprattutto dalla palla a volo perché stasera torna in campo la Sir Perugia a gara 2 di semifinale Scudetto, si gioca a Modena dopo la vittoria per 3-1 al Palabarton dello scorso martedì, Sir quel blitz che manca, titola il Corriere, Perugia non vince in trasferta nei play-off da oltre due anni il 3-0 a Piacenza, Block Devils a caccia del bis dopo il 3-1 al Palabarton, stavolta c'è pure Atanasievic che ha scontato la sua giornata disqualifica qui lo vediamo in tuta accanto a Vujovic a risultare proprio martedì scorso al Palabarton, Bernardi ritrova la formazione tipo molto si gioca al servizio, torna in campo Atanasievic da schiacciatore, da posto 4 anche se, va detto, Berger si è comportato molto bene sia nei ampi spazi che si è guadagnato contro Monza nell'ultima gara dei quarti e sia nel match di apertura della serie di semifinale su questo vediamo anche la Nazione, la Sir vuole battere Modena nella sua Tana, stasera i Block Devils scendono di nuovo in campo si gioca al Palapanini, rientra anche Atanasievic mentre il messaggero, vediamo titolo a Sir, a Modena per l'allungo i Block Devils con Atanasievic sfidano Zayza alle 20.30, atteso un Palapanini sold out De Cecco dice serve continuare a lavorare di squadra, Cristian Zon è deciso, noi crediamo nella vittoria dice l'alzatore di Modena che però dovrà fare i conti ovviamente con la qualità dei bianconeri di Bernardi questo per la pallavolo di cui ovviamente torneremo a occuparci poi domani sia nella nostra rassegna stampa che nel nostro Tg Sport di domani sera che si occuperà anche di Serie C perché la Serie C torna in campo domani oggi ci saranno le conferenze stampa pre-gara, mentre la Serie B gioca a lunedì di Pasquetta in Serie B andiamo col calcio col Perugia, atteso dalla sfida Alcuri con Lecce Grifo, emergenza in difesa, titola il Corriere, Gliombra ancora in dubbio gli amiche cremonesi pronti ad entrare per giocare al centro anche Lecce ha problemi in terza linea, Luccioni, Fiamozzi, Bovo e Cosenza sono out Calderoni in forze, mentre Sgarbi è stato fermato dal giudice sportivo per il doppio giallo a Pescara restiamo al Corriere, andiamo in Serie C, Fere, infortuni a catena Ternana che non vince da dicembre, quelli di Defendi e Castiglia sono gli ultimi di una lunga serie da inizio anno per entrambi stagione conclusa, Gallo dovrà affrontare il rush finale in emergenza Ternana che deve ancora conquistare i punti della matematica salvezza stamattina rifinitura, poi partenza per Osio Ternana che giocherà a Gorgonzola contro il Gianna Erminio Gubbio salvo con due punti, due punti che però non si possono ottenere in una gara perché se ne prendono tre e sarebbe la cosa migliore domani con il Pordenone oppure uno solo, oppure si perde allora sono dolori, domani c'è il Pordenone in odore di Serie B manca un solo punto ai friulani per brindare potrebbero festeggiare tra una settimana in casa ma insomma non c'è da fidarsi la squadra di Galderisi ha l'obiettivo a portata di mano occhio alla classifica Vulsa dice il Corriere, il rosso-blu può bastare un paio di pareggi nell'ultime tre gare c'è un unico scontro diretto è quello dell'ultima giornata, la prima domenica di maggio contro il Verona al Barbetti questo per quanto riguarda il Gubbio ma ieri si è giocato in Serie D l'ultima giornata prima di Pasqua ed è andata male per le tre umbre e su sì ha gelato il Bastia Boldini e compagni hanno reagito ma la difesa di Toscania retto Montevarchi-Bastia 1-0 un'altra rete della Bestia Nera ex Sansepolcro con danni bianco-rossi in casa del Montevarchi Trestina invece giù col Ponzacco Kribeck solo traversa 2-0 per i Toscani anche qui fortuna che il Trestina sia già salvo il Cannare invece scivola sul prato Bazzoffia da Rivotorto realizza due reti davanti ai suoi familiari segna pure Fofanà i rosso-blu sono stati sorpresi subito poi non è bastata la generosità per la rimonta Bazzoffia lo ricordiamo ex Gubbio Farsi dice no a me non piace perdere De Petrillo altro allenatore ex Gubbio risaliamo ma è tardi siamo al torneo delle regioni finisce il sogno dell'Under 15 Umbra che è arrivata in semifinale giovanissimi eliminati dalla Lombardia anche a po' pesante 4-0 però i ragazzi di Velini escono a testa alta dopo un torneo davvero straordinario e poi ancora pallavolo gara 1 di semifinale sorride a Piacenza la Monini battuta 3-1 ora potrà rifarsi in casa mentre per il basket Val di Ceppo si arrende a Fossombrone serve la bella per passare il turno lasciamo il Corriere andiamo alla Nazione ripartendo anche qui dai Grifoni dal Perugia Grifo quanti ex ingrati sulla tua strada 12 confronti il bilancio è negativo l'uno di Alcuri arriva Liverani altro ex che ha vestito la maia bianco-rossa ci sarà Sacchi di Macerata ad arbitrare Ternana Rebus formazione per Gallo fere domani contro il Gianna Erminio la squadra rimaneggiata a causa degli infortuni e poi abbiamo il sogno Umbro infranto al torneo delle regioni con la sconfitta dei giovanissimi mentre la Serie D il quadro di ieri abbastanza da settimana della passione Bastia subito in svantaggio l'impresa non riesce a Montevarchi Cannara sconfitta in dolore Ponzacocini col Trestina si arrende e poi ancora con il basket Spoleto Corsara Perugia in Serie D Sicoma decide la bella dopo la sconfitta di Fossombrone palla nuoto straordinaria Libertas Perugia con Termoli mentre a tennis Thomas Diano è il favorito al New Pat il club per la prima tappa dell'Umbria Tennis il Grand Prix che terrà banco per tutto il periodo estivo chiudiamo con il messaggero ripartendo dal Perugia Grifo ha il conforto della storia verso la grande sfida di Pasquetta per una fetta di Serie A la tradizione dice che i Salentini sono gli avversari preferiti per i pugliesi il Curia è un tabù da 71 anni per il Perugia solo soddisfazioni e vittorie e poi a Gorgonzola sfida salvezza chissà se si ingolosirà la Ternana a cui manca la vittoria da fine dicembre nel corso del giorno di ritorno la situazione si è ribaltata la Gianna Erminio pensata era giunto e superato la Ternana nel giorno d'andata era Fanalino Ricore entrambe le squadre domani devono fare punti per allontanare lo spettro retrocessione Tommaso Montanari l'enduro una scuola di vita dice farò l'istruttore mentre in Arnese parliamo di calcio di eccellenza la spinta delle aquile sui spalti la bandiera albanese e poi Foligno a calcio della Serie D il record stagionale la eccellenza per la verità gioca il 25 aprile contro il Sanzisto servono un punto e anche un gol in ballo non solo la matematica ma anche il primato di gol fuori casa ed è tutto anche per lo sport noi però non finiamo qua perché diamo un'occhiata al meteo e non solo per la giornata di oggi ma vediamo anche come andrà il ponte della Pasqua a tra poco e vediamo la situazione in questa giornata del venerdì santo 19 aprile che apre un fine settimana di Pasqua all'insegna del bel tempo perché oggi ci sarà sole su tutto il territorio regionale al massimo cieli parzialmente nuvolosi avremo nuvolosità di passaggio in appennino ma senza rischio precipitazioni nel resto dei territori della regione cieli poco nuvolosi per tutta la giornata le minime tra i 5 e i 7 gradi le massime come vedete saliranno fino ai 20 gradi situazione che resterà lo possiamo dire fin d'ora stazionaria sia sabato che domenica di Pasqua qualche turbolenza in più è prevista per la giornata di lunedì di Pasquetta con qualche precipitazione soprattutto nel pomeriggio ma di tutto questo torneremo su tutto questo torneremo stasera con gli aggiornamenti con il nostro meteo prima dei TG delle 19.30 e delle 20.20 a cui farà seguito come al solito il TG Sport delle 19.55 e il TRG Plus delle 20.50 vi ricordo stasera torno all'appuntamento sportivo con Umbria Sport Silvano Baccarelli alle 21 su canale 11 ma su canale 11 dalle 21 proporremo le immagini salienti della processione del Cristo morto di Gubbio che muoverà dalle 19.30 è tutto grazie e fin d'ora l'augurio di un buon fine settimana Pasquale a tutti di un buon di un buon di un buon Grazie a tutti.